Io sono contento di quello che abbiamo fatto, sono contento di quello che ho fatto io, si può sempre fare di più, ogni stagione si capisce quello che si può fare di più per la prossima, avrò sicuramente tempo quest'estate per lavorare, era il primo vero anno in questo campionato così importante come la Serie A, quindi ho capito alcune cose su cui voglio lavorare, però siamo contenti per come abbiamo cambiato questa stagione, il tipo di atteggiamento che ci abbiamo messo, è naturale, c'è un po' di rammarico perché è finita presto, proprio adesso che abbiamo trovato una bella chimica, un bel modo di giocare assieme, dispiace al 6 maggio essere fermi, però penso che ci sia qualcosa su cui lavorare e ripartire. Personalmente ho alcune cose ma non sto qui a dirle, sennò dopo lo sanno gli avversari poi, però penso che di squadra si è creato un bel gruppo, un bel affiatamento tra di noi che sicuramente ha aiutato a sorpassare dei momenti non facili che ci sono stati quest'anno e quindi speriamo di ripartire da lì, ora poi sta alla società a fare tutti i calcoli che non spettano certo a me, però spero che da qui si possa ripartire perché secondo me abbiamo creato qualcosa di importante. Sapevo a inizio stagione, il coach ne ha parlato con me che poteva essere il momento per farmi trovare pronto quando iniziava il doppio impegno, quindi è stato un po' il mio modo per farmi conoscere ai miei compagni e ai tifosi, quindi è stato un po' il mio trampolino di lancio. Sicuramente c'è tanto rammarico perché era una cosa alla nostra portata, era un sogno che volevamo vivere fino in fondo e purtroppo proprio sul più bello ci è sfuggito, però non dimentichiamoci la semifinale che è stata una grande partita che ha dato tante emozioni e poi soprattutto la cosa bella è stata vedere così tante persone qui a Varese in piazza piuttosto che a Chalon che hanno seguito e hanno secondo me anche loro sentito l'entusiasmo di una competizione europea.